Veronica Peparini e Stasch si scatenano ad Amici 18 nel noto balletto di Pulp Fiction Il cantante ammette quando sono più vicino a lei, se durante la prima manche è toccato a Rudy Izerbi, Maria De Filippi non risparmia Stasch Ed ecco che nel corso della seconda manche della quinta puntata del serale di Amici 2019, va in scena la seconda imitazione di John Travolta Se Zerbi si è esibito sulle note delle musica della febbre del sabato sera, a Stasch Maria chiede di esibirsi sul famoso balletto di Pulp Fiction Uma Zerman e John Travolta vengono interpretati da Stasch e Veronica Peparini Una simpatica scena che viene anticipata da John Travolta che cerca di insegnare al cantante dei De Calers i panni della piccola coreografia Stasch ammette anche di essere contento di ballare con la Peparini, quando sono più vicino a lei e la parte che mi piace di più Stasch gala con Veronica Peparini a Di Amici.Inizio allora la simpatica scena, Stasch e Veronica Peparini prendono il centro dello studio di Amici 18 e si scatenano nel balletto reso famoso da Pulp Fiction Il pubblico è divertito e lo stesso John Travolta applaude alla simpatica scena E se Veronica Peparini lo esegue perfettamente, Stasch un po' arranca ma porta a casa la sfida di Maria De Filippi Un momento di divertimento in una puntata caratterizzata da grandissime polemiche e molti scontri Come quello tra Loredana Dertè e Vincenzo o ancora tra Rudy Izzerbi e Giordana Intanto il pubblico commenta divertito, Stasch anche ballerino, che bravo! Troppo divertente, scrive una fan di Amici Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like Grazie per la visione! Grazie per la visione!